Buongiorno, sono Fatih Terim. Seguo sempre con molto affetto e interesse il calcio italiano. Certo, anche quello mondiale. Per Champions League vedo favorito i soliti Barca, Real e le altre grandi, ma anche le italiane, Roma e Juventus. Hanno la qualità e l'esperienza per farcela. Il calcio italiano è sempre tra le grandi del mondo, anche se hanno mancato la qualificazione ai mondiali. Sono sicuro che saranno favoriti nelle prossime occasioni e con i club stanno tornando grandi come prima. Genghis Inder è un giovane, è un grande talento e farà benissimo in Italia. Penso anche a Chalhanol. Sono due ragazzi giovani con un grande margine di migliorare ancora. Penso che daranno tanto al calcio italiano. A presto, un grande saluto a tifosi italiani. Ciao!